Tutto il collegio è solo su RaiPlay. Scarica l'app. Come vedete io ho preso le fotografie del corpo docenti e ho creato il professore dei sogni. Professore dei sogni non so esattamente quali sogni, più prof degli incubi a vedere quelle facce, mamma mia! Qui abbiamo il professore dei sogni che ha il sorriso gentile dell'appetolicchio, l'eleganza austera della sorvegliante, il tutto sulla base imponente del preside ma con una pettinatura più alla moda. Nel vostro caso sarà lo studente, il collegiale dei sogni. Potete prendere una parte di un vostro compagno e la parte di un altro, esattamente come ho fatto io. Buon lavoro, forza! Mamma raga la mia foto è oscena proprio, brutta! La mia prima foto che mi lamento è uscita lì. Carta, forbici e pennarelli. Guarda che figo che sono! Un fregno! Ed improvviso si diventa tutti collegiali perfetti. Io voglio gli occhi di Iesa. Voglio mettere gli occhi verdi di Iesa perché sono verde speranza. No, non mi sono venuti bene. Sono venuti bene un occhio e basta allora. Lei mi ha dato tanta speranza e mi ha fatto arrivare fino a qui. A me sta uscendo la gnoccolona qua sotto. Io modesta a me, perché sono modesta, sto facendo un capolavoro. Questo ritratto voglio mettere proprio tutti compresi. Perché è come se sono io che sto qua dentro con un pezzo di tutti. Ma va là, ti ho fatto il naso abbottato. No, ma no! Gli occhi di Davide sono proprio gli occhi da furbetto, guarda. Cioè, non potevo non mettere, sono proprio una cosa distintiva. Il mio collegiale dei sogni, alla base di Di Piero. Vabbè, il sorriso di Sofia, ovviamente. E poi gli occhi sempre molto svegli di Ziliano. Allora, iniziamo a vedere i vostri collegiali dei sogni. Il suo collegiagnato non è umano. Allora, alla base del collegiare perfetto, ci sono io. Di Piero è un po' narcisista. Da un punto di vista puramente estetico, il mento della signorina Matera è il naso del signor Vavala. Poi un bello sguardo con sopracciglia da classicista di Francati è un po' della... Non ci sta. Ti ho staccato la testa. Bonniarga. Come? Spelling? Lo spelling. Bonniarga, detto così. E che cosa significa Bonniarga? Bonni. E poi versione femminile, quindi ho pensato Bonniarga. E poi ho messo il fisico bestiale di uno che si chiama Guida. Mamma mia, comunque è veramente terrificante. Collegiale perfetto non esiste. Io amo i miei amici collegiali perché nessuno di loro è perfetto eppure tutti insieme siamo perfetti. Vi ringrazio per tutte le belle lezioni che abbiamo fatto quest'anno. Grazie. Ci rivediamo stasera. Vai, parla al sociale. Grazie. 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 Grazie.